Hai mai ricevuto chiamate da numeri con un prefisso estero? Fai attenzione perché potrebbe trattarsi di una truffa. Quante volte ti è capitato di vedere sul display del tuo telefono un numero con prefisso estero e di chiederti chi mi chiamerà dall'estero? Sarà una truffa? Se hai avuto questo dubbio potrebbe interessarti sapere che cosa si nasconda dietro queste misteriose chiamate internazionali e che cosa fare per evitare rischi. La prima cosa da sapere è che generalmente rispondendo a queste chiamate non si corrono rischi immediati di furto di denaro o di dati personali. Di solito infatti le vere insidie si nascondono nei passaggi successivi. Vediamo insieme i due scenari più comuni. La finta offerta di lavoro. Questo è il caso più frequente. Quando si risponde alla chiamata una voce pre-registrata ci informa di aver ricevuto il nostro curriculum e di voler proporre un'opportunità lavorativa. A questo punto, con la scusa di parlare di lavoro, il truffatore ci inviterà a continuare la conversazione su WhatsApp o su Telegram ed è proprio qui che cercherà di ottenere informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, cosiddetto tentativo di phishing. In alcuni casi potrebbe richiedere di passare una videochiamata per portare avanti quello che si chiama video phishing, una tecnica volta a essorcere ulteriori informazioni. Il trucco della chiamata interrotta. Un'altra strategia meno utilizzata prevede che la chiamata si interrompa subito dopo aver risposto. Questo gesto potrebbe indurre la vittima a richiamare per curiosità, ma è un errore da evitare assolutamente. Richiamando, infatti, la chiamata viene reinderezzata a un numero premium, con tariffe maggiorate e costi al minuto molto elevati. In pochi istanti si rischia di prosciugare il credito telefonico disponibile. Come mai queste chiamate provengono dall'estero? Spesso da Olanda, più 3-1, Inghilterra, più 4-4, Portogallo, più 3-5-1? La risposta è semplice. È molto più difficile per le autorità, come la polizia postale, risalire all'identità del chiamante quando le telefonate provengono dall'estero. Inoltre, questi truffatori non si trovano fisicamente nei paesi di origine delle chiamate. Grazie all'utilizzo della tecnologia Voice Over IP, VoIP, le chiamate vengono effettuate tramite internet, non tramite la linea telefonica, e con l'ausilio delle VPN, rete private e virtuale, possono essere geolocalizzate in qualunque parte del mondo. Questa tecnologia permette di mascherare la reale provenienza delle chiamate e rende difficili le indagini. Come difendersi da queste truffe telefoniche? Il miglior consiglio è semplice, non rispondere mai a numeri stranieri sconosciuti. Se dovessi rispondere, magari per errore, non fornire informazioni personali o dati sensibili a sconosciuti, anche se ti vengono fatte offerte apparentemente allettanti. E comunque non richiamare se cade la linea. In sintesi, la prudenza è l'arma migliore per proteggerti dalle truffe telefoniche internazionali. Se volete saperne di più, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.